Ciao a tutti ragazzi sono Ramdeadman e benvenuti in questo nuovissimo video dove vi mostrerò come trovare le tavolette ISU che servono a sbloccare la favolosa spada Excalibur Vi lascio le immagini di seguito Grazie a tutti Quindi ragazzi le tavole ISU vanno trovate in caverne e anche con alcuni alcoliti dell'ordine degli antichi In questo video vi faccio vedere anche come si entra nel tempio ISU dove troveremo Excalibur E soprattutto vi farò vedere anche come inserire le 11 tavolette che troverete anche accanto alla spada C'è anche una piccola chicca che è un messaggio lasciato proprio da Re Artù in persona Se vi ricordate ho anche fatto un video a riguardo proprio con lui e la sua spada proprio per collegarli in Valhalla Quindi ragazzi vi lascio anche alla scena favolosa in cui Eivor sblocca e estrae la favolosa spada Excalibur Ragazzi fatemi sapere se la guida vi è stata utile se il video vi è piaciuto Fatemi sapere anche se volete altri video su Assassin's Creed Valhalla E noi ci becchiamo ad una prossima Ciao